Siamo nell'entrata dello studio di Abbey Road, per la prima volta in vita mia devo spostarmi di poco da casa mia per venire a registrare un disco. È la prima volta che entro in questi studi, nello studio mitico, lo studio 2, dove hanno registrato le orchestre più importanti di moltissimi dischi, sia britannici che americani. Stiamo registrando le parti orchestrali alla mia età, mi sembra strano essere qui e parlare di un quarto disco, di un disco che sta nascendo con tanta fatica e tanto amore e anche tanto stupore nei confronti dell'album stesso. In questo ingresso si possono incontrare delle persone pazzesche, da cantanti, autori rock a discografici di musica classica o artisti jazz. Vivere in Inghilterra ha acuito il mio amore sia per la musica acustico rock che il grande amore in espresso fino al disco precedente per la musica elettronica. Questa è Abbey Road, guardatela qui qua. È la mitica strada dove tutti i fan dei Beatles, non solo dei Beatles, ma i più grandi gruppi inglesi, americani e anche italiani vengono a lasciare dei segni su questi muri. Ognuno lascia una frase per le persone che ha amato e che ama nella musica. Quest'oggi ho registrato una parte molto importante del mio album. Spero vi piaccia e ci vediamo presto. Ciao!